Ciao, io sono Emanuele e come sapete fra qualche settimana è in uscita Xcamp, il corso Excel che non c'era. Abbiamo caricato i contenuti e siamo pronti per partire. Xcamp però avrà una sigla. Adesso vi andrò a proporre otto possibili sigle che mi sono state proposte. Ovviamente una è già stata scelta, ma voi quale avreste scelto? Sentiamole insieme! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora, quale sarebbe stata la sigla che voi avreste scelto? Volete sapere quale ho scelto? Lo scoprirete all'uscita di Xcamp fra qualche settimana. Nel frattempo fatemi sapere nei commenti qual è la vostra sigla preferita. Un saluto da parte mia Emanuele Vietti e da tutto lo staff di Esperta.